Lo facciamo, lo stanno giocando bene, penso che sì. Pensava che sarebbero date così le cose oppure... Ogni gol che hanno fatto si sono sentiti un po' tutti morire. Però non è andata... Diciamo che la squadra ha resistito bene e poi ha contraattaccato con saggezza, non si è lasciata prendere dall'animosità come ci è capitato a Palermo. Che cosa ne dice dell'attrito, di questo attrito fra le due squadre? Beh, mi sembra che ci sia più civiltà sugli spalti che in campo. Però anche in campo, dopo i primi cinque minuti... Adesso non passano più.